5 curiosità su Cars In una prima versione Cars si chiamava in realtà Little Yellow Car ed era un film basato sulla storia di un'auto elettrica distrattata dalle auto a combustione interna che popolavano il mondo Nella versione italiana del film i due combattatori delle gare della Piston Cup sono Gianfranco Mazzoni ed Ivan Capelli voci storie della Formula 1 trasmessa sulla Rai Luigi, la 500 gialla, ha i numeri della sua targa che corrispondono alla latitudine e alla longitudine della sede della Ferrari a Maranello La Ferrari F430 che nei minuti conclusivi del film entra nel negozio di gomme di Luigi e Guido è doppiata in tutte le versioni del film da Michael Schumacher Il personaggio di King è ispirato a Richard Petty, leggenda della NASCAR che nella versione americana doppia l'auto La Plymouth Superbird è ispirata all'auto che Petty ha guidato nel 1970 e perfino la dinamica dello schianto nella gara conclusiva è ripresa da un incidente che ha realmente coinvolto il piloto durante la 500 miglia di Daytona nel 1988